Ringrazio Guglielmo, ringrazio chi ci sta seguendo in diretta streaming. Il gruppo cresce, il tesseramento della Lega Nord e di noi con Salvini sul territorio da nord a sud è pressoché raddoppiato già in questi primi mesi dell'anno rispetto all'anno scorso, quindi stiamo crescendo e stiamo costruendo un progetto di governo per mandare a Casarenzi. Non uso una parola per parlare di problemi con gli alleati o di eventuali insulti e attacchi degli alleati. Il problema dell'Italia in questo momento si chiama Matteo Renzi, che sta folleggiando di accordi con la Turchia. Solo un matto da rinchiudere in un momento storico come questo può pensare di continuare a dare soldi alla Turchia e di far entrare la Turchia in Europa. Quindi chi vorrà governare con la Lega deve aver chiaro dove comincia e dove finisce l'Europa e che cosa significa Europa. La Turchia non c'entra, non c'entrerà mai niente con l'Europa. È per questo che le polemiche romane a fronte di quello che accade a Bruxelles, ad Ancara o ad Atene assumono una dimensione veramente piccolina piccolina. Quindi cresciamo, lo diceva Max, ci sono altre richieste sia alla Camera che al Senato che sui territori da parte di sindaci, di consigli regionali, di assessori. Molte di queste richieste avranno da noi esito positivo, altre esito negativo perché non mi piace fare da tram vincente per chi cerca poltrone che altrove sta perdendo. Guglielmo non è di questa fattispecie, si mette in discussione sia in Toscana che all'estero. Lo ringrazio. A proposito di missioni all'estero, la prima che farò sarà nell'immediato dopo Pasqua, quindi fra una decina di giorni in Israele, incontrando ai massimi livelli esponenti sia di partito che di governo di Israele, nell'ottica di riportare l'Italia a quello che era e può tornare a essere. Quindi non mi interessano le polemiche interne, non rispondo alle polemiche interne, faccio gli auguri a chi si candiderà sindaco di Roma fra un'ora, gli daremo tutto l'appoggio possibile, in questo momento il pericolo non è a Roma, a Bologna o a Bolzano, il pericolo viene dall'estero, è un pericolo economico e di sicurezza. Quindi penso che l'esperienza internazionale di Guglielmo ci possa aiutare. Il trend è questo in tutto il mondo, da Trump alla Le Pen, all'Austria, all'Olanda, alla Germania, al Regno Unito, io ricordo l'appuntamento fondamentale di giovedì 23 giugno e chi vorrà governare con la Lega deve aver ben chiaro che l'Europa o si ricostruisce da capo o non è. E se non è, meglio soli che male accompagnati. In quel giovedì 23 giugno, quando ci saranno le elezioni in Gran Bretagna sul sì o no all'Europa, noi organizzeremo gazebo in tutta Italia per permettere anche agli italiani di dire il loro sì o il loro no a quest'Europa. Questo è il senso di questo allargamento, è l'inizio di un percorso di una Lega che cresce, include, abbraccia, vuole mantenere nei limiti del possibile l'unità ovunque e laddove sia possibile senza retrocedere sui suoi valori fondamentali e sui suoi obiettivi fondamentali. La coincidenza è semplicemente coincidenza, non è una risposta ad altre, è un percorso che va avanti da settimane e che si conclude oggi e quindi da oggi siederà nei banchi del gruppo parlamentare della Lega Nord e sicuramente un gruppo che penso crescerà ulteriormente nelle prossime settimane.